Si parla di un'eccessiva irrigazione, è per questo che è caduto quest'anno? No, io non credo. Anche perché noi diamo da bere circa 5-10 minuti ogni 2-3 giorni, quindi più di tanto. Forse l'acqua piovana, però... Danneggiato questo furgoncino, aspetterà il condominio a risarcire i danni? Certo, siamo assicurati. Adesso sto andando pronto in assicurazione. A quanto ammontano? Non lo sappiamo. Non credo ci sono grandi danni. Possono cadere altri alberi? Sì, di fatti abbiamo già fatto abbattere anche l'altro, perché la giardineria comunale adesso ha dato parere favorevole ad abbattere subito l'altro fino. No.